In questo video andiamo ad analizzare il processo di conversione da un numero in base 10 a un numero in base 2. Quindi partiamo da un numero in base 10, ad esempio il numero 57. Vogliamo realizzare la conversione dalla base 10 alla base 2. Quindi scriviamo in questa notazione, quindi il numero in base 10 sarà pari a un certo x in base 2. Qual è il procedimento? Dobbiamo dividere il numero per 2, ottenere quindi un quoziente che sarà in questo caso 28 con il resto di 1 e procedere in questo modo. Quindi proseguiamo ancora, quindi qui il resto è 0, 14 diviso 2 è 7 con il resto di 0, 7 diviso 2 è 3 con il resto di 1, 3 diviso 2 è 1 con il resto di 1, 1 diviso 2 è 0 con il resto di 1. A questo punto basterà considerare il numero in questo verso per dire che la conversione sarà 111001. Quindi questo numero 57 in base 10 sarà 111001 in base 2. Per poter fare, diciamo, esattamente l'inverso, quindi partire da un numero binario ed andare a individuare qual è il corrispondente decimale, scriviamo il numero separando le cifre tra di loro in modo tale da poter operare in questo modo. Cioè, una volta scritto il numero, scriviamo sotto a ogni digit 2 elevato alla potenza di 0, di 1, di 2, di 3, di 4, fino a 5 o comunque fino alla lunghezza del numero. Quindi in questo caso se abbiamo un numero a 6 bit, 6 digit, partiremo da 0 e arriveremo a 5. Quello che dobbiamo fare adesso è il prodotto di 1 per 2 alla quinta, 2 alla quinta è 32, più 1 per 2 alla quarta, che è 16, più 1 per 2 alla terza, che è 8, più 0 per 2 alla seconda, che è 0, più 0 per 2 alla prima, che è 0, più 1 per 2 alla 0, che è 1. Quindi dovremmo fare 32 più 16, che è 48, 48 più 8, che è 56, più 1, 57. Quindi questo sarà il numero in base 10, che è esattamente il numero da cui eravamo partiti. Quindi nella procedura di conversione da decimale a binario occorre dividere per 2 finché non si ottiene un quoziente pari a 0 e poi si considerano tutti i resti dall'ultimo fino al primo. Per fare esattamente l'inverso, quindi partire da un numero binario, calcolare il numero decimale, dobbiamo fare la somma dei prodotti di ogni singolo digit per 2 elevato alla potenza in base alla posizione del digit, come abbiamo fatto in questo caso.